Il segreto tornerà questa sera su canale 5 ridando nuovo spazio ai problemi di Bosco e al suo complicato rapporto con Berta. Nonostante quest'ultima in presenza dell'amante Apai e affettuosa soddisfacendolo in ogni sua richiesta, sarà impossibile dimenticare i sospetti di Rosario e Candela, confermati dallo strano comportamento della Balia, Convinto che lei stia nascondendo qualcosa, Bosco deciderà di seguirla per verificare che non ci siano sorprese. Ed in effetti le cose andranno proprio in questo modo, Berta non compirà nessun gesto preoccupante e il figlio di Peppa si sentirà in colpa per non avere avuto fiducia nei suoi confronti. Non sarà questo l'unico problema che il gemello di Aurora dovrà affrontare, se Verro arriverà gli Aral mettendolo in guardia sulle cattive intenzioni di Donna Francisca, che non fa nulla senza un secondo fine. Proprio in quel momento la Montenegro inromperà la tenuta, lo scontro sarà inevitabile.